Buonasera, buonanotte cari amici, direi uno cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole, tutto è pronto, questa è una brevissima anteprima, sentiamo subito Galatea Aranzi, attrice di cinema, di teatro, di televisione, il suo rapporto con il cinema. Galatea Aranzi. Galatea Aranzi. Abbiamo ovviamente in questa puntata Antonio Valerio Spera e poi i nostri amici critici a cominciare da Enrico Magrelli che divide il suo percorso professionale ormai tra la radio e la televisione, poi Valerio Caprare e tanti altri, i nostri amici docenti, ovviamente le uscite sala, le testimonianze a caldo, le sale stanno ritornando ad essere in un certo senso affollate, insomma il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, tra poco vi aspettiamo. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Cinematografo, il film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole, sta avendo un ottimo successo, sto parlando del film di Paolo Genevese, il primo giorno della mia vita. Se nel caso non si può vado anche da solo, è un po' triste andare al cinema da solo. Dipende, Claudio Del Falco, lei va al cinema Claudio? Come spettatore? Sì, sì, spesso. Perché lei è uno dei protagonisti di questo film, Assassin Club, un minuto per raccontare questo film, raccontato da lei che è uno dei protagonisti. Sì, Morgan Games è un killer professionista, interpretato da Henry Golding, che deve uccidere sei persone, questo è il suo ultimo lavoro, viene incaricato di uccidere queste sei persone. Ben presto però scoprirà che queste sei persone a sua volta sono state incaricate di uccidere lui, quindi si troverà coinvolto in questo gioco mortale in cui solo il più forte sopravviverà. E io sono uno di questi sei, il suo rivale praticamente, Ryder, psicopatico. Che ruolo è stato per lei? Mi sono divertito moltissimo, poi il cast è fantastico, c'era Henry Golding, Sam Hill di Jurassic Park, faceva il mio capo. Ecco, lavorare con tanti colleghi non italiani, significa significato per lei qualcosa o no? Assolutamente sì, a parte il clima, il set, 300 persone che lavorano per te, io ho fatto una scena difficilissima, la scena finale in cui muoio, perché poi alla fine io sono forse l'ultimo, di una difficoltà enorme. C'era una professionalità assoluta, dalla fotografia veramente tutti bravissimi, il regista Camille Delamar, che è stato per anni il montatore di Luc Besson, quindi viene da una scuola di action molto importante. L'aiuto regista, americano bravissimo, tutti molto bravi e devo dire che mi hanno aiutato tutti moltissimo, perché ho recitato in americano, in inglese, quindi per me non era neanche molto semplice, non essendo lingua madre, però l'action era talmente bella, talmente particolare, di me sono divertito moltissimo, veramente. Lidia, lei ha mai lavorato con troupe non italiane, film stranieri, che esperienza è stata? Ma ho appena finito adesso le riprese di Verona, di Timothy Scott Bogart, questo musical americano su Giulietta e Romeo, c'era Rupert Everett, Rupert Wilson, Rupert Graves, meraviglioso. Ma c'è differenza tra il lavoro in una troupe formata da molti non italiani e una troupe del tutto italiana? Ma io questa differenza non la sento mai, sento quando ci sono delle troupe che non funzionano e questo succede sia in italiano che in inglese. Assassin Club visto da Francesco Puma, Palermo, Francesco brevemente. Allora, sì, Camille Delamaro, lo ha detto Claudio, è un regista specializzato in film d'azione che proviene dalla scuderia di Luc Besson e questo probabilmente Assassin Club è il film più action anche che ha fatto dei precedenti, proprio perché è veramente uforico nell'azione, è adrenalinico, non c'è un attimo di pausa, di soste, per cui per quanto per tutti gli amanti del genere sicuramente è un invito a nozze. Sì, vanno a cinema, vanno anche a teatro, che è l'altra arte, bisognerebbe incentivare di più questa loro frequenza, la possibilità di mandarli. Ho capito che i giovani hanno bisogno di storie, vogliono essere nutriti di storie, qualsiasi storie, ma che siano storie però. Claudio, Claudio Del Falco, attore per scelta, per caso o per necessità? Io ho una storia un po' particolare, perché sono nipote di Giovinelli, quindi mia nonna, l'Ambra Giovinelli, è stato il cuore del spettacolo del cinema. Poi mia madre ha conosciuto mio padre, era Olimpia Cavalli, faceva la subretta di Macario, ha fatto i due marescialli con Totò e De Sica, quindi io sono cresciuto in una famiglia dove scendevo, c'era Vatterchiari che stava a prazzo a casa mia, c'era Fellini. Fellini era un amico di famiglia sia da parte di mamma, che ci aveva fatto otto e mezzo, che papà che era il padrone del teatro dove lui venne da Rimini. Quindi non poteva scegliere gli altri? Io diciamo che papà non voleva che facessi l'attore, mamma sì, ho cercato di accontentare un po' tutte e due, un po' papà, un po' mamma, ho fatto un po' tutto, ecco. E lei invece? A lei com'è andata Lidia? I suoi genitori non volevano una figlia attrice? Ma diciamo che da parte paterna ho avuto abbastanza una rivalità sul punto, dall'altra parte prova, ma io ho scelto la mia strada, sono andata dritta, l'ho sempre voluto fare. Andarella, a lei com'è andata? Io sono andata sulla mia strada, però a casa avevo qualcuno che mi ricordava che bisognava avere un piano B, perché non era detto che ci si poteva riuscire, quindi c'era più la paura da parte loro di tutelarmi in questo percorso. Antonio invece? Ma io non sono un attore, quindi. No, no, lo dico per il suo mestiere ovviamente, perché lei ha deviato da un percorso ad un altro. No, diciamo che il cinema è una passione, è una mia grandissima passione da sempre, ho cercato di renderla un mestiere un po' a 360 gradi. Ora continuerà? Ora continuerà? Continuerà con i film documentari o cercherà altre strade, quindi un lungo metaccio? Per ora un altro documentario. Per ora un altro documentario. Per ora un altro documentario. Io amo ripeterlo spesso, Lidia. Quelli che parlano bene in televisione spesso chiedono programmi futuri. Che sta facendo e che farà? Oddio, ho appena finito un film e adesso... Le cose finiscono per poi cominciare. Vorrei fare la mia opera prima come regista, questo è il mio desiderio. Dopo ho fatto cinque cortometraggi da regista, scritti prodotti e diretti. Ho scritto questo Amà con cui vorrei dirigere mia figlia, Blu Yoshimi. Che fa l'attrice. E niente, stiamo partecipando ai vari bandi. Ho vinto il mic per lo sviluppo della sceneggiatura. Adesso stiamo in procinto con lo sviluppo della produzione. Se qualcuno ci crede... Claudio, dei prossimi impegni? Io ho appena ultimato le riprese di Iron Fighter. L'abbiamo finito da tre giorni il film. Quindi con un cast internazionale. Io ho esordito come regista. Il mio primo film da regista. Il cast c'è Danny Queen, Al Yamanuchi, giapponese. e Camilla Cruz e Scobarra, che è straniera. Quindi abbiamo fatto questo film dove... Molto action. Che è un po' tarantiniano. Mi sono divertito molto. Io vengo preso in ostaggio da una banda di giapponesi. E con le catane li faccio tutti a pezzi. Quindi sarà... Solo per fiction, ovviamente. Solo per fiction, assolutamente. Quest'anno, il 26 maggio, è uscito Karate Man. Ne avete parlato di Claudio Fragasso. Sta andando molto bene su Prime Video. Insomma, sto avendo delle belle soddisfazioni. Anche per gli action in Italia non è facile girare gli action. E abbiamo un mercato internazionale molto vasto. Usciamo in 150 paesi del mondo. E quindi sono molto soddisfatto. Ed è anche molto innamorato, mi sbaglio? L'amore fa sempre bene. Fa sempre bene. Essere innamorati dà molta ispirazione. Allora, per chiudere, davvero... Noi sappiamo quello che fa Valerio Caprara. Scrive sul mattino. È un ottimo docente universitario. Ma io da Valerio Caprara, per chiudere, vorrei sapere che farà Zaniolo. Ah, questo veramente bisogna essere nella sua testa. Devo dire la verità, non mi interessa molto. Non mi sono molto appassionato perché è un giocatore strano. Un giocatore che tecnicamente non mi convince molto. E anche certi suoi atteggiamenti non mi convincono. Io sono di cuore. E Zaniolo è più di testa. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte.